Cercate che sia un giocatore che può fare anche il nostro ruolo per lavorare a questo. Vediamo, sì. Vediamo se è possibile, se ne ha le caratteristiche, con il primo impatto. Sembra di sì, ma visto proprio il contesto della squadra. La seconda, so che non ti piace parlare di sì, ne so anche che c'è l'allenamento. Perché mi fai una domanda? Sì, lo devo fare. Volevo sapere un po' le posizioni di Gonzalo, se pensi che lo vedo recuperare, che non è capitale, sicuramente, è capitale, grazie. Il mio approccio rispetto agli infortunati, che quando sono infortunati non devono accelerare. Ora andiamo incontro a un tour de force contigo, no? Ci saranno tante partite, quindi non mi piace rischiare. Lo invitiamo a dire insieme in atto, ma credo che sia molto difficile. E Aguilani ieri ha fatto un buonissimo allenamento, forse il primo completo, insomma, ma gli avendo in pomeriggio.